Lautaro quello fake Lautaro Giardetti mamma mia e siete a meno 7 mi dispiace siete a meno 7 è il campionato ancora lungo ma intanto in tanti i sogni si stanno un po' rompendo per i Juventini non si possa per vincere a novantesimo pareggiare con due botte di culo oggi ho giocato in merda ma l'ha vinta l'ha portata a casa insieme a Juventus si guarda una partita del cazzo ma portata da casa e così facendo gli fa restare a meno 7 da noi e lì ti c'è poi la partita in meno e se adesso vince quella partita in meno questo potrebbe essere anche chiuso perché se com'è tra i punti di qua e i punti di lago il Toreccio sarà in ritana sul 9 è quasi chiuso però io dico sempre il campionato è lungo il campionato è ancora lungo ma calma 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 intanto mi corrono questa sconfitta della Juventus e occhio che hai un cavogobbo perché c'è il Milan sotto a meno uno così iscriviti al terzo posto e iscriviti anche ad andare terzo cavallegui ti stai sciogliendo come leva il sole cavallegui non hai più scuse dai nette di via mi dispiace mi dispiace detto ciò vi saluto sei forza it ciao